e bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video oggi mi scuso se in questi giorni non ho fatto moltissimi video mi sono presa un po' di pausa anche perchè sta per finire la stagione e quindi stiamo aspettando diciamo siamo tutti in hype per sapere che cosa succederà oggi uscirà anche un secondo video dove vi spiego che cosa succederà perchè ci sono state date delle novità da fortnite per oggi parliamo della parte competitive di fortnite ci sarà un torneo ma prima di andare a vedere vi ricordo di lasciare like e iscrivervi al canale comunque quindi fortnite sfida trinity che cosa vuol dire? questa skin che non usciva mai che ha due stili diversi abbiamo scoperto che ci sarà un torneo per avella ma non preoccupatevi perchè arriverà subito dopo nel negozio oggetti come un po' tutte le altre scusatemi se non vi sono riuscita a dire che oggi stesso c'è il torneo per switch chi arriverà ottavo avrà una mimetica gratuita e chi invece arriverà a livelli un po' più alti riuscirà a beccarsi anche la skin e tutto scusate se non ve l'ho detto ve lo dirò per chi vedrà questo video ve lo dirò tra poco inizierà alle 6 inizierà quest'altro torneo comunque andiamo a rivedere il torneo sfida trinity sarà in terzetti e richiede due FA sarebbero i due passaggi quelli anche per regalare oggetti agli altri e sarà domenica 14 marzo alle 14 fino alle 15 eh sì fino alle 15 fino alle 17 scusatemi regioni solo europee dato che è una cosa del wind 3 piattaforme tutte modalità di gioco nuovo partnership con gli operatori mobili di 3 e wind 3 per potenziare la sfida fortnite trinity nuovo torneo terzetti nella regione server EU modalità terzetti saranno 10 partite da completare entro 3 ore da oggi giocatori del Regno Unito, Irlanda, Lanimarca, Svezia e Italia potranno usare l'addebito diretto all'operatore telefonico per acquistare i vpacks sul pc e il pagamento diretto a epic su android quindi grazie a questo torneo ci saranno anche queste cose sistema di punteggio andiamo a vedere vittoria reale vittoria reale 6 punti raggiungi top 3 3 punti raggiungi top 6 2 punti e così via poi quindi in futuro nel negozio oggetti come vi avevo detto prima per chi interessa qui sotto ci sono tutti i premi e niente questa sarà la sarà questa sfida ce l'hanno detto direttamente qui quindi ci hanno spiegato come sarà vi ho spiegato come sarà praticamente il torneo io vi auguro buona fortuna per chi riuscirà a vincere la skin e chi vuole partecipare e ciao ragazzi e Grazie per la visione